figlio di p***a c'era? che c'era? mi bruciano qua qua bella a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono Alveac ragazzi oggi venite qua ragazzi oggi devo fare uno scherzo a Shelly che sarà veramente cattivo l'abbiamo pensato di Yevussa però ragazzi questo è veramente veramente cattivo perché non so se vi ricordate nel mio video precedente questa patatina qua che mi ha fatto finire in ospedale ok vi ricordate i bruciati di stomaco che vi ho detto di non farlo mi raccomando ecco e quando sono tornato all'ospedale è stata una gallina perché è una gallina che ha iniziato a ridere ce l'avete presente? allora adesso è la Mansucu non so che l'abbiamo vista infatti poi vedrete ragazzi dietro grazie eh ma oida devi tirare in bocca diretta una volta che entra quella inizia a bucciare guardami qua mi riesco ad aprirla non riesco ad aprirla guarda che roberto guarda che roberto ma fa paura io voglio l'adesivo lo ricorda mi fa fa molto paura ragazzi questa è l'originale tra l'altro sì purtroppo sì quindi sarà molto complesso ehi oggi deve mangiarsi tutta questa qua stai attentissimo adesso mi mi ha rotto l'occhio occhio non toccarti veramente la faccia io ti dico che già questo pezzo qua per lei basta e avanza zio perché io ti dico che l'altra volta l'ho mangiato non farà mai diversa dalla tua no 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 è tutta gialla no sono sono diverse una è nera una è gialla è vero guarda anche la polvere è tutta gialla dipende quale ma non con le mani ti brucia zio non ti toccare gli occhi ti giuro ma la polverina nel sacchetto va bene va bene dopo usiamo anche quella io forse questo pezzo un po' li voglio bene però uo fra sentalo sentalo hai mangiata di nuovo hai mangiata ragazzo no a te non sei non c'è ma quantissimo eh sto sottendo davvero oddio troppo non va bene attento con quel dito che poi ti scordi fra non ti scordare no 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 raga non fate la casa come va di qua porca guarda che si è rotta guarda che è rotta e secondo voi funziona metterlo sulla pingos si dai una leccata no no una puntina mi è bastato l'odore senti la potenza fra due minuti che tra un minuto ti sale una legna la lingua perché brucia why is it spicy no no ti garantisco che è perfettamente funzionante io amo il piccante ma con questa ho fatto ho fatto brutto e tra qua quanti puntini ragazzi lavo le mani e andiamo su voglio provare adesso come se già non penso guarda un mozzettino no un pezzettino mi fa paura no 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 a me non passa no questo pezzettino piccolissimo così questa è la prova ufficiale di quanto è forte e questa è la prova ufficiale di quanto è forte questa patatina vai vai aspetta non arriva subito aspetta non arriva subito aspetta 10 secondi me lo sento si pensa che dopo lo senti ancora più forte e se beve è peggio e se beve è peggio non bere latte si beve guarda che è tutto rosso è fortissima farò sai che cos'è e te lo giuro frate che mangiarla tutta è pesantissima sai che sai cos'è che facciamo appena lei ne pilla quella lì importante noi andiamo subito dopo di lei secondo me le sentiamo pure noi ci sentiamo qualcosa stiamo zitti ma lui sta soffrendo dobbiamo aspettare vabbè hai mandato capo a lui il camera te lo dico non lo buttare giù è forte che guarda quando tu sei finito in ospedale io ho avuto la conferma che sta patatina funziona perché prima io non ci credevo e lui pure come a me mangiò piccantissimo andiamo dai dai soffri siamo di tutto allora noi abbiamo deciso di fare la serata cinema insieme a te devi stare in live con te con le pringles e poi ci sono le pringles buonissime buonissime figlio di puta ma che c***o è nemmeno io stavolta non sono io veramente stavo andando c***o è papu sicca troppo com'è c'era questo è un peccato di gola vedi è un peccato di gola guarda te ne mangio un altro non si accettano le patatine da io strane ma cosa c'era che c'era non c'era niente non gridare che c'era non mi interessa picca troppo ma che c***o è che cos'è non lo so non so lì che cosa tu parli ma perché è tanto piccante giuro troppo sto male ma che cosa è piccante mi brucia troppo raga ma l'acqua non risolve a quanto pare una ragione pringles veramente mi brucia tu cosa c'era non sento niente io la patatina raga la patatina piccante sei serio ma tu sei serio oh vedi che ossionante ai livelli semi tu sei veramente non so tanto si non so stato ma perché mi perdere ma no è troppo è troppo ma perché ti ha smasso l'angina è stupido tu perché ma tu sei stupido e questo sai perché te l'abbiamo fatto perché ti ricordi che quando l'ho mangiata io sei venuta lì a e ti ricordi come ridevi e allora abbiamo deciso che l'abbiamo visto ma mi brucia tutto l'interno te lo giuro te lo giuro mi brucia anche qua però io sto soffrendo prendi tutti c'è una cosa bella che tu non sai è che anche Adam l'ha provata anche Cata l'ha provata mi stanno scoppiando le labbra mi fanno male è normale che mi brucia il naso è normale che mi brucia il naso fai devi vedere domani come ti brucia il c***o mi trema c'è il rossetto adesso magari perché a freddo trema non è vero no 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 che cosa hai detto adesso Ussa cosa si fa questo silver button per terra ma perchè per terra non è un silver button perchè per terra oi allora non personn basse ma ragam e pure graffiato ZIA non ciao Dio faccio questa mia fai�li apri qua io non ho fatto niente non so niente la stanza in comple non è mia i didn't do nothing to you che puoi io sono arrivato ho trovato tutto aperto è Atria su ff u te lo giuro ma noi dobbiamo cuori allora upper a quani call oh Allora devi dirmi com'è stata questa avventura Mi brucia, mi brucia qua Che scongiuro, che scongiuro Mi brucia qua È stata sua, tu dimmelo Che dura zio Beh, diciamo che non è stata proprio sua Però la complicità di fraccia C'è sempre Sto sbiffando l'acqua Io ti giuro, però non serve a niente Il naso, il naso Fai così, fai capire Sì, vai via da su Dio ti prego, Dio ti prego Ti non giuro che ti piglio Ti piglio Vai lì Ragazzi, io vedo la prossima video Sto ridi Che schifo di mio Allora ragazzi, vediamo nel prossimo video Anche questo prefiere riuscito insieme alla complicità di fratello USA E ragazzi, come avete visto alla fine lo dobbiamo fare a Shelly Ma mi sa che quello che sto soffrendo Ma trafondo Poi è giusto Argo, si combo E potrei farlo Si combo